Il comparto dell'edilizia residenziale pubblica Toscano, che ospita oltre 46.000 nuclei familiari, appare in buona salute. È uno dei modelli più avanzati in Italia. Le aziende toscane gestiscono quasi 50.000 abitazioni, di cui il 93% è regolarmente assegnato. Il settore ha però margini di miglioramento e di efficientamento e soprattutto deve avere una missione nuova, più chiara e coerente. È quanto chiedono le società di gestione, commentando i dati raccolti nella prima edizione dell'Osservatorio regionale sull'edilizia sociale realizzato da Comservizi CISPEL con Federcasa in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Nomisma. Perché noi riteniamo in accordo dentro un quadro nazionale, che è quello di Federcasa e la federazione di tutti gli enti gestori, che gli stessi enti gestori per proporre decisori politici, le proposte giuste e reali, concrete, che partono dalla realtà, dai fatti, abbiano bisogno appunto di questo tipo di strumenti. In Toscana il 66% dei nuclei familiari, circa 143 mila, in affitto al di fuori del sistema dell'edilizia residenziale popolare, ha difficoltà nel pagare regolarmente il proprio canone mensile. Inoltre gli ultimi dati Istat sulla povertà sono drammatici. L'incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie. Per questo servono anche in Toscana politiche per la casa strutturali. Io penso che ci sia un grande spazio per ridefinire queste politiche. La regione ha il compito maestro per poter far questo insieme al governo nazionale. Le attese di questo comparto sono importanti e vanno in qualche modo esaudite.